Se non ci fosse la scuola, non ci sarebbero le aule, i libri, non ci sarebbero le penne, gli astucci, i zaini, niente merendine, schiacciatine, crackers, non ci sarebbe niente per cui alzarsi presto la mattina, non ci sarebbero i compiti, le interrogazioni, niente giustificazioni, firme falsificate, niente ritardi programmati, niente compagni che diventeranno amici per la vita, pizze di classe, niente secchioni, leccapiedi, casinisti, nerd, niente AI ai 30 centesimi, niente ricreazione, ore lunghe, ore brevi, niente studiatore dell'ultimo minuto, scene mute, compiti in bianco, pensate, non ci sarebbe cultura, progresso, scienza, niente Dante, Boccaccio, Petrarca, non ci sarebbero equazioni, disequazioni, logaritmi, funzioni, niente Shakespeare, Hemingway, Goethe, niente gerundio, gerundivo, ablattivo assoluto, auristo, niente Socrate, niente Platone, Aristotele, Kant, non ci sarebbe libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di espressione, niente gioco di squadra, niente uniti per un grande ideale, grandi sogni, aspirazioni, speranze, niente credere di poter cambiare insieme il mondo, lunga vita alla scuola.